vi faccio vedere un attimino l'occorrente per il nostro presepe fatta di conchiglia allora questa è una conchiglia che ho comprato molto tempo fa ho fatto con la colla guardate questa qui con la glitterata un passaggio e poi con le dita l'ho spalmata e fatta asciugare il retro l'ho dipinto di verde con lo smalto e poi con lo smalto glitterato ho tirato queste carinissime linea la base ho preso una base in legno piccolina guardate qui l'ho dipinta di nero e l'ho fatta nera perché c'erano delle macchie di pennarello quindi l'ho fatta nera e spennellata con i glitter sulla quale poi andremo a fissare la nostra conchiglia quindi io ho preso delle conchiglie che abbiamo raccolto quest'estate guardate io ho già assemblato la nostra madonnina guardate quanto è carina ho fatto anche gesù bambino vedete la conchiglia piccolissima con fatta con un'altra piccola conchiglia tonda per la testa e vi faccio vedere ho messo una conchiglia di queste qua lunghe per fare il braccio e vi faccio vedere come assemblare allora io ho assemblato dalla parte sottostante in modo tale da fare come se fosse la schiena noi il corpo e poi vado ad assemblare in questo modo faccio un attimino mettiamo un po di colla a caldo qui per attaccare la nostra testa o la conchiglia che forma la testa tenete qualche secondo poi prendo una conchiglietta di questa lunghe ripeto si possono io non le abbiamo prese quest'estate in spiaggia ma si possono acquistare anche online oppure dai cinesi oppure insomma si possono acquistare non è una cosa ripetibile e teniamo fermo per qualche secondo anche questo pezzo del nostro piccolo presepe poi sempre quest'estate ho trovato guardate qui questo pezzo di credo che sia uno scoglio una conchiglia consumata e lo andrò ad usare sembra fatta apposta guardate qui come culla quindi andrò a fissare il nostro bambin gesù poi vedete voi un pochettino se non l'avete potete prendere anche una noce qualsiasi cosa che comunque possa fare da colletta quindi andiamo a mettere un po di colla qui un po di colla qui andiamo ad adagiare e incollare il nostro bambin gesù teniamo sempre qualche istante e poi andiamo a mettere tutto nella nostra conchiglia grande allora i miei care si è asciugata anche la colletta con il bambin gesù e vado a posizionare io sinceramente ho fatto già varie prove in questo modo o poco poco più all'interno la nostra colletta qui si è staccata la testa ed ecco qui guardate quanto è carina e adesso scegliete il punto dove mettere san giuseppe e maria quindi lo scegliete con l'andata a fissare nello stesso modo mettendo un po di colla a caldo sulle parti che vanno a combaciare sulla conchiglia sottostante se volete potete mettere anche un po di scusate di questa qui c'è scritto che fatta di legno questa paglia di legno ecco chiamiamolo così la potete fissare sotto il nostro bambin gesù con un po di colla e poi successivamente andare a mettere i nostri ultimi personaggi va bene quindi la potete fissare così e poi incollate e vi faccio vedere cosa è venuto fuori una volta mi cade fissato questo risultato e vado a mettere ora fisso mi sono bruciata il mio presepe sul legno lo potete mettere dietro lo potete mettere avanti io lo metterò al centro e metterò poi questi quei coralli che vi ho fatto vedere prima li metterò un po giù giusto per decorare un po e richiamare il verde comunque che della conchiglia facciamo asciugare e poi intanto vi faccio vedere una cosina sposto questo così non mantengo con una mano ho creato questa carinissima stella non è regolare perché l'ho fatta io così semplicemente con del filo di ferro questo qui ho piegato e ripiegato su e giù in questo modo portato su così poi ripiegato nuovamente giù fino ad ottenere 5 5 raggi poi ho piegato con le dita fino ad ottenere questa curvatura un po particolare infatti ho lasciato un raggio guardate qui ho una punta di stella per farvi vedere quindi piegando su e giù come vi ho fatto vedere guardate semplicemente in questo modo ok poi ho piegato la parte superiore quindi la stella la punta qui con una pinza in questo modo una volta poi che ho fatto tutti cinque le tutte le cinque punte della stella ho chiuso qui con un pizzico di colla a caldo e ho messo questa finta paglia giusto per chiudere la parte sottostante poi con le dita ho fatto questo movimento una volta fatta la punta ho semplicemente messo le dita all'interno e allargato in questo modo guardate abbiamo ottenuto così una stella unica perché l'abbiamo fatta noi non è regolare e non la voglia neanche regolare perché il fatto a mano è bello anche per questo creare delle cose uniche adesso vediamo un po se si è asciugato il mio presepe ok guardate si è fissato per bene scusate qui tutta questa colla a caldo attaccata sul tappetino e adesso vado semplicemente a mettere dei sassolini non ne metto molti metto giusto qualcuno per decorare che ho acquistato non mi ricordo da un po che ce l'ho li vado semplicemente a cospargere sulla colla a caldo premo leggermente e poi faccio la stessa cosa sul reto del lavoro e ve lo faccio vedere finito allora mi cari guardate io ho messo la stella vi do un consiglio con un con qualcosa un cucchiaio qualcosa schiacciate sulla parte in cui avete fissato in modo tale da renderla piatta e poi l'andate a spennellare con lo stesso colore di smalto con la quale andrete a dipingere la vostra conchiglia perché guardate qui sembra mentre poi passando leggermente lo smalto andrà poi a svanire il l'effetto della colla a caldo io ve lo faccio vedere subito ed ecco qui mi agare ciò che abbiamo creato oggi insieme guardate quanto è bello con il riflesso della luce poi sembra ancora di più il glitterato guardate il retro io ho passato con lo smalto nel punto in cui abbiamo fissato la nostra stella e questo è il risultato finale se vi è piaciuto questo video mi raccomando pollice in su iscrivetevi al mio canale condividete attivate la campanellina e riceverete un una notifica ogni volta che pubblicherò un video io vi mando un caloroso abbraccio e ci rivediamo prestissimo mi raccomando pollice in su